Io sono il traduttore della sua opera omnia, cioè di tutti i suoi scritti raccolti da una istituzione creata appositamente che è l'Institut Benedict XVI a Ratisbona e che poi, come dire, demanda a vari editrici, per l'Italia l'editrice vaticana, di predisporre la traduzione nelle varie lingue. Questo è stato il mio rapporto, se vogliamo, in diretto con Benedetto XVI. Ho avuto un rapporto più diretto negli ultimi dieci anni, in quanto ormai non è più un segreto, sono stato il suo traduttore, per così dire, personale. Ho tradotto il suo carteggio, ho tradotto tutti gli scritti che sono usciti dal monastero direttamente in lingua italiana e naturalmente era un rapporto molto serrato perché ogni traduzione lui la vedeva e di tanto in tanto mi chiedeva un consiglio su un termine o su un concetto specifico. Io sono stato riversato del suo affetto in questo senso, ricolmo del suo affetto e della sua gratitudine anche immeritata. L'ultima volta che l'ho visto era il 2 dicembre e lui mi disse, mi guardò negli occhi e mi disse io sono il suo carnefice, è vero? E io risposi, no santità, lei non è il mio carnefice, anzi io mi nutro dei suoi scritti ed è la verità. Io non ho incontrato, anche perché devo essere sincero, non nasco teologo, nasco studioso di storia e filosofia in Germania, ma come voi sapete bene in Germania filosofia e teologia sono materie affini per tradizione culturale, ma anche per struttura universitaria. Ma devo dire che tra tutti i teologi che ho conosciuto traducendolo, lui è veramente alla lunga quello dal quale ci si può nutrire spiritualmente nel modo più pieno, più vero, più completo. Una volta Don Sergio Mercanzin ha raccontato un episodio, ha detto, forse l'ho anche scritto in un libro, in un'intervista che ha dato a Orazio Larocca, ha detto, una volta ho incontrato Pierluca Azzaro e lui mi ha detto, Benedetto è un santo, poi ti dirò perché. Ora, grazie a Dio, io ho già dei capelli bianchi e perciò posso abbalermi della facoltà di non ricordare quando gli abbia detto questo e anche poi ti dirò perché. Però mi è capitato di tradurre un testo, ti benedetto, un testo inedito in traduzione italiana e lì lui fa un volo proprio su questo tema partendo dall'autore forse che gli è più caro che Agostino. In questo testo che ho tradotto rispetto a quello che lo accomuna di più ad Agostino, guardate questo passo, ve lo anticipo, a mio modo di vedere è un passo autobiografico perché lui descrive Agostino e siamo diciamo alla fine degli anni 70, ma dalla prospettiva di oggi secondo me uno può leggere anche il percorso di Benedetto e anche leggere e capire perché secondo me lui può essere considerato un santo. È un testo che si chiama Agostino, primo pensatore moderno, è un'omelia. Voi sapete che Ratzinger si esaltava nelle omelie, è uno dei generi che amava di più. Ma perché lo amava di più? La risposta è ancora una volta in questo passo che io vi leggo. Scrive Ratzinger in questa omelia che dedica Agostino. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, una volta ha detto di non poter sopportare santo Agostino, tanto gli pareva plebeo e comune. In questa osservazione c'è indubbiamente qualcosa di giusto, ma sta proprio qui la vera grandezza cristiana di Agostino. Egli avrebbe potuto essere un aristocratico dello spirito, ma, per amore di Cristo e degli uomini, nei quali scopriva venire a sé Gesù Cristo, ha abbandonato la torre d'avorio dell'alta spiritualità, per essere totalmente uomo tra gli uomini, servo dei servi di Dio. Per amore di Cristo, Agostino non ha disdegnato di abbandonare la gloria divina e di essere un uomo come noi. Egli ha sacrificato tutta la sua cultura superiore ed è riuscito a portare ai suoi la parola di Dio con semplicità e schiettezza sempre maggiori. Per amore loro egli è divenuto sempre più comunemente uomo tra gli uomini, servitore di tutti ed è stato così veramente un santo. La santità cristiana, infatti, non consiste in una qualche sovraumanità o in un talento e grandezza superiori che un altro non possiede. La santità cristiana è semplicemente l'obbedienza che si pone a disposizione là dove Dio ci chiama. Quell'obbedienza che non si affida alla propria grandezza, ma si fonda sulla grandezza del nostro Dio e sa che questi si può trovare proprio nel servire e nel perdersi. Allora, se noi ci riportiamo alla memoria tante affermazioni di Ratzinger quando disse pregate per me perché mi sento inadeguato, ma il Signore è al nostro fianco, quando iniziò il papato. Oppure un momento cruciale secondo me del suo pontificato, adesso faccio, dico qualcosa di scandaloso, secondo me uno dei momenti più alti del suo pontificato è stato il discorso ai bambini della prima comunione. Quando ha spiegato Sant'Omaso, perché Ratzinger non era solo un amante di Sant'Agostino ma anche di Sant'Omaso, quando ha spiegato con la ragionevolezza di Sant'Omaso ai bambini che cos'è la fede, convincendoli. Un bambino in quella occasione forse non si rendeva conto di porgli una domanda che avevano posto anche a Sant'Omaso in una delle questioni sdisputate. Ehi Tommaso, l'Eucarestia, ma dov'è Dio qui? Qui non si vede Dio, Cristo nell'Eucarestia non c'è. E allora dov'è se non lo vediamo? E un bambino in quell'occasione gli pose proprio la domanda, Santo Padre io riceverò la prima comunione tra poco, ma nella comunione mi dicono che c'è Gesù, ma io non lo vedo. E lì veramente si vede tutta la grandezza e l'umiltà di questo Papa che si fa piccolo per i piccoli, lo sta in una torre d'avorio, segue proprio la sua anima profondamente sacerdotale così. E gli dice, ma sai, non tutte le cose che non vediamo non esistono. Anzi, è il contrario. Proprio le cose più importanti di cui abbiamo più bisogno, che sappiamo più che più vere, sono quelle che non vediamo con i nostri occhi. Dov'è il coraggio? Lo vediamo, no, ma esiste. E l'elettricità dov'è? Non la vediamo, ma esiste. E l'amore? Non c'è, ma ne vediamo gli effetti. Quando c'è amore siamo tutti felici. E così è Gesù nell'Eucarestia. Noi non lo vediamo, ma lo riconosciamo dagli effetti. Non sei felice quando stai con i tuoi, quando siete insieme di fronte all'altare, pregate, vi stringete. Ecco, lui è un santo perché ha accolto, come dice Di Agostino, questa chiamata a servire, lì dove è stato chiamato e in questo senso in certo qual modo si è perso veramente. Nel servire si è perso, ma proprio così probabilmente ha incontrato Dio. Ecco, questo è in qualche modo, come vedete, non solo un ritratto di Benedetto XVI rispondendo un po' a una sollecitazione di Don Sergio, ma anche di riflesso un po' l'influenza che ha avuto in me Benedetto. A un certo punto si smette di essere semplicemente traduttori e questo è anche un po' la bellezza di questo mestiere, ma si entra sempre più nel pensiero, per sempre più tradurlo, meglio. Ecco, e lui è stato sempre così grande con me, diceva sempre no, no, voglio che lo traduca azzaro perché conosce la mia teologia, pensi un po'. Dovrei arrossire in questo senso, però era questo Benedetto.